Mtv ha rinnovato per il secondo anno il suo sostegno al Rufa Contest perché quando si tratta di creatività e di giovani che sono invitati a esprimerla non ci tiriamo mai indietro e anzi siamo curiosi di vedere che cosa succede tra le nuove generazioni che usano tecnologia e creatività insieme cosa che abbiamo sempre seguito da quando esistiamo e da quando siamo nati